buongiorno allora guardate che mani un disastro ragazzi un disastro va bene però se non lo faccio adesso questo video non riuscirò a farlo più quindi finalmente il primo tutorial in collaborazione con lori creation vi lascio qua sotto il link al video presentazione il video dove mostro il materiale che mi ha mandato loredana vi parlo un po del tutto e oggi facciamo questo primo tutorial si tratta di questi orecchini allora ho usato tutte le cose azzurre le powderi inviati da loredana la goccia no ce l'avevo io la monachelle di loredana e le rocaille erano le mie ma perché mi ero già accordata così con loredana ho detto guarda scelgo le perline in sé e non le rocaille perché loro calo ormai li abbiamo tutti ne ho quintali e allora preferisco scegliere qualche perline in più particolare che le rocaille e quindi nascono loro loro non hanno ancora un nome ma sono un progetto ha anche arrivoli ovviamente di loredana non svaroschi da 12 mm e delight non mi ricordo quale nascono non hanno ancora un nome cioè lo avranno in realtà quando leggerete il titolo quindi si chiamano eccomi sono secondo me super mega iper adatti alle principianti perché hanno veramente dei passaggi molto semplici e non molti quindi secondo me nel titolo scriverò anche per principianti gli altri invece l'altro tutorial sarà un po più magari un po più rognoso e niente passerei subito all'elenco dei materiali guardate qua lo smalto sopra quello delle e l'elenco dei materiali allora abbiamo detto rimboli da 12 mm io l'ho già incastonato rocaille 11 rocaille 15 perle da 4 mm super duo gen duo io aggiungo una goccia però non è necessaria perché io lo aggiungo col cappettino quindi volendo uno si ferma qui e lo fa senza goccia ora abbiamo detto voi mettete in pausa e incastonate i rivoli partendo con 28 rocaille 11 0 io esco da un rocaille centrale dell'incastonatura prendo una nuova 11 0 e dentro in quella centrale subito dopo ok lo faccio vedere di nuovo dovete fare questo passaggio aspettate no non per tutto il giro si per tutto il giro che fusa lo faccio vedere di nuovo usciamo da quella centrale e entriamo in quella centrale dopo e ripetete questo passaggio alter cioè non alterato questo passaggio fino a terminare il giro eccoci qua in realtà non sapete ma stavo già iniziando a girare questo pezzo ma è crollato il telefono come al solito ma stavolta visto che avevo parlato per poco tempo tagliato cancellate rifacciamo comunque usciamo da una rocaille di quella appena inserite prendiamo sul lago una 11 una gem duo una 11 una gem duo ed una 11 saltiamo una perlina qua che sporge ed entriamo nella seconda che sporge ok eccoci qualcosa ora prendiamo no non prendiamo niente prendiamo due due 15 entriamo nella perlina che sporge successiva ok ora prendiamo una 11 due super duo una 11 due super duo e un'altra 11 qui saltiamo ben due roccaille che sporgono ed entriamo nella terza eccoci qua aiuto dov'è eccoci qua ora cosa dobbiamo fare dobbiamo ripetere il passaggio specularmente quindi qua metteremo le due 15 qua metteremo le gem duo due 15 le super duo e due 15 e ci vediamo dopo eccoci ora uscite dalla 11 0 dopo la coppia di gem duo prendiamo una 11 una perla ed una 11 ed entriamo nella 11 0 anche nelle perline dopo prima delle super duo tirate ok vedete la perla si posiziona ora attraversate le perline e dovete riempire per farlo in tutti gli spazi quindi uscirete da qui entrate qui uscite qui entrate qui e così via dicendo eccoci allora finito questo giro uscite uscite aia scusate mi vuole mettere comodo ha fatto un disastro si vede fanno ridere su più che essere professionali vabbè uscite dal faro alto della gem duo esterna alla coppia prendiamo 3 15 ed entriamo nella perla solo nella perla eccoci qua ancora state tirati bene ok ancora 3 15 ed entriamo nella prima super duo ora dobbiamo ripetere inserimento delle 3 15 0 sia qui qui saliamo ci vediamo quando usciamo dalla gene adesso prendiamo una 15 una super duo 3 15 io lascio un attimo giù entriamo nel secondo foro della super duo tiriamo un po in modo da avvicinarci vedete come rimane prendiamo un'altra 15 ed entriamo nella seconda gen 2 tiriamo il tutto ecco qua ora ripetete tutto fino ad arrivare al complimento del giro eccoci usciamo allora avrete appena inserito questa dovete attraversare tutto per uscire dalle 3 15 0 prima della gen duo prendiamo 6 15 sul lago 4 5 6 ed entriamo scusate io lavoro così perché sono più comune ed entriamo nella prima 15 15 sopra la super duo ok ora prendiamo 3 11 saltiamo la 15 centrale ed entriamo nell'ultima 15 forse sopra la super duo ok ora prendiamo ancora 6 su 6 15 ed entriamo qui attraversiamo il tutto per fare la stessa cosa anche da questo lato eccoci qua ora voi avete fatto tutto qui attraversati di nuovo il tutto per uscire dalla perlina centrale delle 3 11 0 di punta prendiamo sul lago 4 11 andiamo a fare il cappietto 4 e ci inseriamo nella stessa perlina ok tiriamo il cappietto è fatto ora io vado a ripassare vado giù faccio il cappietto anche da questo lato perché ricordate io qua uso il cappietto sia per la monachella che per la goccia se voi non dovete farlo avete finito il tutto comunque il lavoro è terminato spera sia tutto chiaro un video un po così c'è c'è raccioso ho fatto un po di casini ma vabbè spero che vi piacciono guardate come si bruci con lo svaroschi io mi vado a fare un caffè e vado a far fare i compiti a diego maledetti compiti di questa dad mi sta uccidendo va bene arrivederci ciao